Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono sempre io, Mr. L, e sono qui su un video un po' a parte. Oggi infatti io volevo parlare un po' di tutti, come dire, di sicuro i casini che sono successi su Facebook, ma anche in giro su tutti i diversi social network, che sono riguardanti la saga di Fable. Ciò è successo quindi che alcune persone hanno, già si è visto che la Microsoft ha cancellato l'uscita di Fable 4 come gioco in abitazione Steampack. E ciò potremmo dire ha causato tra gli, come dire, ha causato tra gli amanti della saga Fable un po' come dire di rivolte, perché così facendo avevano limitato il lavoro della Lionel Studio. Io non ho capito se il progetto Fable 4 che dovrà uscire, cioè io non ho ancora ben capito se Fable 4 non uscirà proprio, oppure semplicemente se sarà, uscirà cambiato e ambientato ancora nel medioevo. In ogni caso sentivo il bisogno di poter dire la mia. Quindi, allora, prima di tutto però per poter spiegare bene, per poter riuscire a dare una, come dire, un'opinione, per poter far sì che voi riusciate a comprendere meglio in maniera più oggettiva tutto quanto, dobbiamo riuscire a capire meglio anche un po' i precedenti capitoli. Quindi, Fable è stata, tutta la sua saga è stata famosa fin dal primo capitolo proprio per essere una saga molto fantasiosa e con un'atmosfera che ricorda come molto quella di una favola. Per esempio, coloro che hanno giocato a Fable 2 sapranno di sicuro, si ricorderanno di sicuro la musichetta che c'è all'intro nel momento di pausa. Cioè, quella musichetta lì fantastica fa, come dire, farà capire subito che questo gioco qui rappresenterà una specie di favola. Si capirà subito grazie alla musichetta che c'è all'inizio, alla musica che c'è all'inizio, all'inizio dei gameplay, meglio ancora nel menu principale. Quindi, Fable sono dei giochi che contano principalmente su un'atmosfera molto fantastica riguardanti le favole. Infatti, molte persone hanno criticato il 3, capitolo che è piaciuto molto anche a me. Mi è piaciuto di più il 2, ma anche il 3 è stato carino. Comunque sia, molte persone l'hanno criticato perché ha in parte rovinato l'atmosfera di Fable. Infatti, Fable, si ricapisce subito dal titolo e come stiamo dicendo ora, siccome riguardano favole, dovrebbero essere ambientati principalmente ai tempi riguardanti tutte quelle creature magiche, riguardanti magie, spade, le classiche, come dire, avventure con le spade, diciamo, ambientate nel medioevo, piene di elementi fantastici. Quindi, il progredimento temporale che piaceva molto a quasi tutti gli amanti della saga di Fable era ovvio che doveva essere eliminato proprio perché andava anche a compromettere come potremmo dire, andava a compromettere l'atmosfera dei diversi gameplay proprio perché perdeva quella caratteristica che era sempre stata molto accentuata all'interno dei primi capitoli della saga, cioè all'interno di tutti gli altri capitoli della saga meglio. Tuttavia, molti fan questa roba qui non è ancora andata giù e hanno fatto una vera e propria crociata contro la Microsoft accusandogli di aver distrutto la saga di Fable. Quindi, adesso potremmo dire di essere giunti alla conclusione di questo video e possiamo dire che il fatto che la Microsoft abbia deciso di bocciare l'idea di un Fable ambientato in un'età steampack è in parte giustificata dal fatto che così facendo il Fable avrebbero potuto con buone probabilità perdere tutta l'atmosfera che gli aveva sempre caratterizzati perché ragazzi, io stesso ho giocato a Fable 2 e devo ammettere che l'atmosfera è veramente una cosa che si fa sentire ragazzi tra le musiche, i personaggi, i mostri e tutto l'atmosfera si fa sentire veramente molto bene. Inoltre, l'elemento fantasy era stato veramente creato molto bene non era il classico fantasy che vanno dentro a mettere lupi mannari e tutte le creature magiche a caso come su Skyrim per poi far venire fuori un incesto per farlo venire fuori male. Su Fable tutte le idee fantasy erano state create e dettagliate veramente molto bene infatti c'è anche una storia sotto come dire, per esempio su Skyrim ci sono questi zombie che si animano e si ammazzano su Fable 2 invece la cosa viene ulteriormente complicata non sono gli zombie che si animano ma sono delle anime, che sarebbero i fuochi fattui a essere precisi che entrano all'interno dei corpi di persone morte gli animano e quindi ti attaccano con quelli lì poi ovviamente non sto qui a spoilerare tutto che magari un giorno potreste anche giocarlo se troverete una Xbox 360 quindi, ma veramente, le storie sono veramente molto complicate e ben dettagliate e far progredire Fable come tecnologia avrebbe, sarebbe andata, come dire, a rimuovere completamente questi elementi fantasy. quindi ragazzi, spero che questo video sia piaciuto, di essere stato anche chiaro proprio perché diciamo che ho avuto alcuni problemi durante la registrazione video ho perso il discorso tipo 30 volte, ho dovuto eliminare 30 volte dei file video perché erano venuti male e soprattutto, spero che non si senta, ma c'è un cane maledetto, il mio, che abbaia e ciò ha compromesso anche una registrazione venuta su molto bene quindi se il video vi è piaciuto e vi ha schiarito un po' le cose, cosa che spero che abbia fatto condividete, mettete like, commentate, fate tutte quelle robe lì che di solito compresa di iscriversi, che la gente fa in tutti i canali YouTube tranne che nel nostro, chissà perché quindi spero di esservi stato utile e ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti